tutto pronto appena cominciato il match dai ragazzi degli scarsenal e ragazzi dell'atletico ma non troppo con questo match che emozioni ci regalerà buon calcio a tutti mi sembra di sì mi pare di sì però non vorrei dire una strana che poi ti asciughi il pallo clamoroso colpito dalla scamarcia ora santoro c'è valvo che prova ad andare valvo col destro segna sempre lui che campionato per mattia valvo 1 a 0 santoro c'è certosino che viene servito certo c'era il pareggio degli scarsenal e il resto certosino 1 a 1 mamma che gol di mennillo una rete incredibile da parte dei giocatori degli atletico nuovo vantaggio 2 a 1 cosa di falsare diciamo ancora certosino certosino bala sul sinistro allargata per santoro santoro buccia di cristiano pareggio degli scarsenal gol di santoro 2 a 2 valvo ruba palla ancora lui mattia valvo che condizione 3 a 2 atletico ma non troppo oh non andate subito la pressa la cazzo occhio Flavio Amedeo servito anticipato il partiere Flavio Amedeo segna anche lui 4 a 2 atletico che destro incredibile ancora una volta gli scarsenal rispondono presenti distanze accorciate 4 a 3 le isole Aran tutta la zona paesaggistica l'agosto si qualcosa di mare ma non mi sa più specie il mare fece qui il primo tempo inizia la ripresa del match ragazzi degli scarsenal e atletico ma non troppo vediamo questa ripresa che emozioni ci ricaderà marziali 4 a 3 si confermi Occhio a scamarcia siamo io valvo c'ha vedeo che viene servito nello spazio Flavio Amedeo incrocio dei pali altro che santoro occhio a contropiede c'è certo si lo santo si mette in proprio come santoro cristiano 1 2 con Amedeo poi santoro per prova ad andare ancora santoro simbola santoro palla fuori Amedeo palla a cercare scamarcia la parata di Liucci poi Amedeo la mette in mezzo ricciotto per tu il palo nel primo semestre qual è l'altro esame? geometria o algebra di buona? recupero corposo ancora palla scaricata per Golia Liucci lascia un po' a desiderare c'è il gol degli atletico ma non troppo che vanno a segnare il 5 a 3 e finisce qui con la vittoria degli atletico ma non troppo siamo con Valvo migliore in campo di questo match vinto degli atletico ma non troppo che dire periodo di forma strepitoso per voi state ingranando la marcia ora iniziano i playoff che vi aspettate raccontaci anche un po' il match il match è stato molto entusiasmante soprattutto il primo tempo che però nel secondo tempo siamo un po' calati perché vogliamo proteggere il risultato poi meno male che all'ultimo abbiamo fatto l'ultimo gol e abbiamo messo assicura la partita poi per i playoff ci aspettiamo di arrivare lontano qual è la squadra che ti metti di più? io ho il buonocore hanno belle individualità per tutti in attacco poi vabbè non teniamo nessuno perché siamo molto forti anche noi va bene in bocca a lui il Piosigo ciao ragazzi grazie grazie